Buongiorno, sono Simone Lievore e in benanchio rappresento il QHSE manager. Si tratta di una figura relativamente nuova nel panorama aziendale, ma che negli ultimi anni ha acquisito sempre maggior importanza. Il manager QHSE, Quality, Health, Safety, Environment, cioè qualità, salute, sicurezza e ambiente, di un'azienda raccoglie in sé competenze manageriali trasversali in materia di salute e sicurezza del lavoro e dell'ambiente. Questo ruolo implica una solida preparazione su ogni aspetto della gestione della qualità, della salute, della sicurezza e del lavoro in azienda e della gestione dell'energia e delle fonti energetiche, nonché della sostenibilità ambientale e dell'organizzazione e richiede continui aggiornamenti in tutte queste materie. In benanchio, il mio ruolo è particolarmente orientato al controllo qualità e sicurezza della produzione. Il manager QHSE opera in diverse tipologie di aziende, sia pubbliche che private, per supportare grazie le proprie abilità e competenze il conseguimento degli obiettivi stabiliti per la prevenzione e protezione dei lavoratori e la tutela dell'ambiente, garantendo i requisiti del cliente sul prodotto finale. Il manager QHSE è una figura professionale che supporta l'organizzazione nel conseguimento dei relativi obiettivi in ambito di salute, sicurezza, ambiente e qualità, sulla base delle proprie specifiche conoscenze, abilità e competenze ed è colui che protegge l'azienda da eventuali sanzioni amministrative, termine adempienze ai requisiti di legge, garantendo al tempo stesso la continuità delle forniture in termini di quantità e qualità.